Questo video è dedicato al glossario del web marketing e dell'e-commerce marketing. In questa rubrica, in questa serie di video, noi tratteremo, daremo la definizione e il significato dei termini, delle sigle e degli acronomi più utilizzati all'interno dell'e-commerce marketing e del web marketing in generale. Oggi parliamo di tutti quei termini che troverai all'interno delle campagne pubblicitarie, quindi quando realizzerai una qualsiasi campagna per promuovere il tuo sito, i tuoi prodotti all'interno del tuo e-commerce, in quel caso affronterai queste sigle, questi termini. Quindi oggi vediamo la definizione. Il primo termine è CPC. CPC sta per cost per click, cioè costo a click, ed è il costo che tu sostieni ogni qual volta un utente clicca sul tuo annuncio pubblicitario. Quindi se per una determinata parola chiave all'interno di Google AdWords vedi che il CPC medio è di un euro, significa ogni volta che un utente clicca sul tuo annuncio, tu spenderai un euro. Questo termine è molto utilizzato all'interno delle campagne pay-per-click e qui arriviamo al secondo termine di oggi che è PPC. Le campagne PPC sono le campagne pay-per-click, cioè le campagne di advertising, di promozione, di pubblicità a pagamento dove tu paghi ogni volta una persona clicca sul tuo annuncio, come per esempio le campagne Google AdWords oppure le campagne Facebook Ads. Un altro termine che troverai molto all'interno di determinate campagne pubblicitarie, soprattutto delle campagne pubblicitarie di display advertising, quindi di pubblicità dove tu inserisci degli elementi grafici e mostri il tuo brand, quindi aumenti la visibilità dei tuoi prodotti del tuo sito e-commerce, è CPM e CPE. CPM sta per cost per mil, cioè cost per mille impressioni, cioè per mille visualizzazioni. Ogni volta che mille persone visualizzano il tuo annuncio, il tuo banner pubblicitario, tu paghi un determinato importo. Se un portale ti propone l'inserimento di un banner pubblicitario per il tuo sito a 20 euro CPM, significa che ogni mille visualizzazioni di quel banner tu pagherai 20 euro. CPI invece rispetto a CPM significa cost per impression, cioè cost per singola impressione, quindi non prendiamo più in considerazione mille visualizzazioni di pagina, ma prendiamo in considerazione solo una visualizzazione di pagina. L'altro termine molto utilizzato è CTR. CTR è il termine che ti indica quant'è l'efficacia del tuo annuncio, quant'è l'efficacia della tua campagna pubblicitaria. Tieni conto che CTR ti indica quant'è l'interesse dei visitatori verso il tuo annuncio, verso la tua pubblicità e quindi devi conoscerlo e devi saperlo, saper aumentare questo valore. CTR sta per click through rate, cioè percentuale di click ed è il numero di click, il numero di visitatori che cliccano sul tuo annuncio ogni 100 persone che visualizzano la tua inserzione. Facciamo un esempio, l'1% di CTR significa che ogni 100 persone che visualizzano il tuo annuncio una persona clicca ed entra all'interno del tuo sito web, quindi è importante aumentare il più possibile questo valore per rendere più efficace la tua campagna pubblicitaria. Ci sono altri termini un po' meno utilizzati ma che sicuramente devi conoscere, per esempio CPL. CPL sta per cost per lead, cioè cost per singola registrazione, per singola iscrizione per esempio alla tua newsletter. Questo viene molto utilizzato per le landing page che cercano di attrarre dei visitatori e raccogliere i dati anagrafici di contatto, quindi questo è il singolo costo per ogni contatto acquisito. CPA, CPS e CPO sono molto correlati, CPL sta per cost per action o cost per acquisition ed è il costo per singola azione che può essere l'acquisto o la registrazione di un contatto oppure qualsiasi altro tuo obiettivo all'interno del tuo sito e-commerce. Facciamo un esempio, con 1000€ di spesa tu ottieni 100 azioni, quindi significa che il tuo CPA è di 10€, quindi il costo per ottenere quelle 100 azioni, quei 100 obiettivi che possono essere per esempio 100 iscrizioni alla tua newsletter è di 10€. CPS sta invece per cost per sale, quindi costo per singola vendita e CPO cost per order, cioè costo per singolo ordine effettuato all'interno del tuo e-commerce. Per qualsiasi domanda scrivici nei commenti o inviaci un'email all'indirizzo info-scuolae-commerce.com Grazie a tutti!